attento che è pieno di ghiaccio non siamo ancora in cima oh si e papà ha già paura papi guarda la fontana attento sta un po' distante da chi apporta ma le casette che ci sono par carità guarda che panorama e non siamo ancora in cima siamo a metà guarda la bandina così possiamo sfruttare tutto il parco almeno papi ecco l'acqua splash quelli che dicevi tu oh eccoli la la eccoli la eccoli la dove è l'entrata e poi accendiamo eccolo la l'entrata ma dopo dopo accendiamo dai accendiamo dai in cima sai che mi si starà bene e poi se si aprono le porte che freddo di te qua sopra si ah non siamo ancora in cima guarda ci sono le canoe là quelle là belle si ma te te ne hai mai non voglio negarmi ah il trenino là c'è anche il trenino è il trenino è il trenino è il trenino non siamo più alti del treno ma non è vero prima eravamo così su mia adesso siamo più alti ma non siamo ancora in cima poi la 49 cioè la 48 neanche si apriva quindi abbiamo più sulla 50 papi dimmi siamo quasi in cima siamo quasi in cima guarda siamo quasi arrivati in cima si che belle macchine che ci sono papi no siamo quasi in cima siamo quasi in cima siamo quasi in cima papi guarda le belle macchine che ci sono là e pare formiche no dai no dai davvero belle quelle là belle le piscine Ah, piscine, proprio piscine! Proprio le piscine, sì, c'è Mirabice. Cos'è Mirabice? Eh, Mirabiliandia però, come Castelbice. Che c'entiamo? Eh, la prossima volta c'entiamo anche lì. No, adesso? No, è un altro ingresso, non abbiamo quell'ingresso lì. Guarda che rostagna enorme, papi, vieni! Ah, sì? E' uno stagnone quello? Oh, siamo in cima! No, adesso siamo in cima! Quasi! Siamo in cima! E' il numero 48 che è in cima! Adesso siamo in cima! No, ancora? Sì, dai, siamo... Quasi in cima! Quasi il massimo! E là sotto? Madonna che alta casa! Hai paura, hai paura! Eh, un pochino! 3, 2, 1... Siamo in cima! Siamo in cima? Sì! Oh, alla, siamo venuti in cima! Non siamo più alti di tutto! Alla ruota mega panoramica! Come ruota mega panoramica! Sì, perché è rotta panoramica più piccola! Questa qua è gigante! Papi, vieni a vedere! Guarda! Ci sono delle persone là! Dove? Ah, lì? Ah, sì! Sono due! Ma è che da qua voglio vedere... Ah, là c'è un'altra! Ma solo per un altro giro! Un altro giro? Ma no! Vediamo, facciamo... No, così vediamo... Stai un po' distante dalla parcalità! Che sei troppo alto! Deni, stai un po' distante dalla porta lì! Eh, non voglio che stai troppo vicino alla porta! No! Eh, piuttosto lì, guarda! Papi, andiamo sulle canoe! Dove sono le canoe? No! Eh, quelle lì! Eh, quelle che dicevi? Quello splash lì! Splash è sempre quello lì, eh! Ma andiamo lì allora! Sì! Adesso? Sì! Subito! Finito! Ma non erano quelle auto splash? Quali? Le macchinine là, quelle che vanno sull'acqua? Quelle lì sono! Eh, ma io ho detto le canoie lì sotto! Quali sono le canoie lì sotto? Lììì! No, no, quello lì c'è... T'è neggi massa! Cioè, vi andare in costume lì! Sto amato! No, no, niente, portatevi il costume, Deni! Sì, sono tutti in costume qua! Eh, infatti là ti bagni troppo! Demo, sto qua! Demo solo cosplayersi, dai! Adesso si andiamo! Appena arriva giù! Appena arriva giù! Sì, quando arriva giù! Adesso andiamo giù! Per 5 ore! Ah, là c'è il tasto! Papi, girati! No, là c'è il mirabiccio! Là c'è il mirabiccio! C'è bloccata! No, no, stanno sempre andando! Va sempre questo! Non si ferma mai! No! No! Dai, decidiamo adesso che giostro fare! Sì, e da qua vediamo tutto! Va bene! Ok! Ah, un bel panorama! Guarda che bello! È bello! Adesso! Quanti ombrelloni! Sì, ma non c'è ancora nessuno! Vedi che è ancora chiuso! Apre più avanti, mi sa! Adesso sta andando giù! Adesso sta andando giù! Oh, vi vedi a vedere quanti raggi ci sono! Ma cosa sono tutti quei raggi? Eh, a tenere fermi, sennò saremmo già caduti! C'è della ruggine lì! Dove? Dove? Ah, è lì su quello che ci tiene, il fesci! È tutto arrugginito marcio! Guarda che roba! Ma qual è quello che ci tiene? Quelli lì, guarda! Guarda quelli lì! Io dico col dito questo qua! Quello lì! Tutto ruggine! Aiuto! Andiamo giù per caretà! Dai, cadiamo adesso! No, no, no! Sta buono! E' l'ischietto! Ma come dice Robert? Oh, 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 sta buono! Oh, a me la voglio! Dai, che scendiamo! Basta fare la roba! Andiamo, dai! GOR! jd